adesso crolla tutto subito e dai però design design aspetta quindi per fare bene il nostro lavoro cosa serve per fare il nostro lavoro servirà sicuramente chiarezza ordine mentale un certo grado di creatività capacità di comunicazione sia verso il prodotto finale che verso gli altri membri del team e conoscenza tecnica degli strumenti alla fine quello che dopo è la praticità di tutti i giorni sono d'accordo per quello che faccio io quello che devi avere chiaro e in ordine preciso è quello che vuoi comunicare banalmente certo no non è una cosa così scontata perché secondo me molti dei problemi che vedi magari in giochi di poco successo o comunque in giochi in cui non riesci a riconoscere un'impronta è quando non capisci dove vogliono andare a parare quindi l'ordine passa secondo me dall'ordine a livello di cosa vuoi comunicare l'ordine nella tua comunicazione io a questo aggiungerei che sono diciamo le cose che io vedo più importanti la ricerca ricercare cosa fanno gli altri e vedere come farlo diverso come perché l'hanno fatto in un certo modo perché noi non dovremmo farlo uguale o perché dovremmo farlo uguale oppure adattarlo alle nostre esigenze poi costruirsi il proprio metodo il metodo che vuol dire che io faccio le cose in un certo modo che funzionano bene sia per me sia per il posto in cui lavoro e le persone con cui lavoro quindi trovare questa via di mezzo fondamentale sì questo è vero quando crei un sistema come può essere quello che stiamo facendo in un certo senso adesso devi sempre tenere da conto che il sistema crescerà e poi ti serve il metodo perché quando crei sistemi per un gioco a un certo punto più i sistemi diventano grandi e complessi più hai questi giri schifo di calcolo dove hai tutti i numeri e tipo ne tocchi uno e dall'altra parte ti distrugge qualcosa e dici oh mio dio ho rotto tutto no oh god no questa cosa è pericolosissima vedi è esattamente quello che succede stai andando a toccare un blocchettino fondamentale del sistema e stai rompendo tutto io sono una temeraria eh no ci sta a differenza tua esatto che è un'altra cosa che secondo me funziona bene in realtà bisogna andare in ordine quindi questo oh god no non viene via secondo me no abbiamo rotto troppo Genga no 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 è tutto finito questa roba è ciò bringeci Grazie.